Urne, cabine, liste di candidati ed elenco degli elettori. Per la prima volta saranno 1741 i soci della carnevalesca che domenica 15 maggio potranno votare e decidere chi farà parte del nuovo consiglio direttivo dell'ente. L'appuntamento è in programma all'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio. Dalle 9 alle ore 15 si preannuncia storico per quella che una volta veniva chiamata società della fortuna. Gli elettori dovranno munirsi della tessera di un documento di riconoscimento. Possono votare solo i soci iscritti da almeno tre mesi e cioè entro il 10 febbraio scorso. Si dovrà compilare l'apposita scheda con il nome e il cognome di massimo 12 fra i 430 candidati e si potranno scrivere tre preferenze sia per l'elezione dei cinque sindaci revisori sia per quella dei cinque probiveri della carnevalesca. Le schede che riporteranno un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle. Nei casi di omonimia invece sulla scheda dovrà essere indicato il cognome e il nome del socio che si intende votare e il numero corrispondente nell'elenco dei soci. Nella chiesa di Santa Maria del Suffragio saranno esposti sia la lista dei soci in regola con il tesseramento sia l'elenco di chi si è autocandidato quando ha sottoscritto la tessera. A seguire è previsto lo scrutinio che formalizzerà la lista di 18 candidati che avranno ottenuto più voti. La nuova presidenza poi sarà eletta durante la prima assemblea del nuovo consiglio direttivo.